Ciclista investito da un'auto mentre attraversa in bici sulle strisce pedonali trasportato in codice rosso al torrette di Ancona. Presentati i nuovi assessori della giunta regionale Antonini, Biondi e Brandoni, il presidente Acquaroli assicura siamo già al lavoro in grande sintonia e continuità. Messa in sicurezza dell'argine del torrente Arzilla, l'assessore Aguzzi rassicura gli operatori turistici e balneari, nessuna modifica alla viabilità che anzi verrà migliorata con la riduzione della pendenza della strada. A Pesero ampliato il San Decenso, inaugurati 104 posti auto ma l'obiettivo è 250. Laboratori, giochi e attività ludico-ricreativa Sant'Orso di Fano, torna bella storia, l'iniziativa organizzata dal comune per allontanare gli atti vandalici compiuti dai giovani tre anni fa. Sant'Orso a misura di bambino, inaugurata la rotatoria colorata dagli alunni della scuola elementare. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Nove giorni dal decreto di nomina dei nuovi assessori, oggi si è svolta la conferenza stampa di presentazione della nuova giunta regionale. Un'occasione anche per annunciare gli obiettivi perseguiti dall'esecutivo Sanità, Infrastrutture e post alluvioni, i temi trattati dal presidente Francesco Acquaroli. Una nuova giunta nel segno della continuità amministrativa. Dopo l'insediamento dei nuovi assessori e consiglieri, oggi a Palazzo Raffaello, è stata presentata la stampa la nuova giunta regionale. Goffredo Brandoni di Fratelli d'Italia, Andrea Maria Antonini e Chiara Biondi della Lega hanno sostituito rispettivamente Guido Castelli, Mirco Carloni e Giorgia Latini. Dopo il governatore, la prima a prender parola è stata all'ormai ex consigliera fabrenese che nel passaggio di testimone tra quote rosa ha preso le deleghe a cultura, istruzione, sport e pari opportunità. Biondi ha dichiarato di aver già esaminato i dossier più importanti, come quelli inerenti alla candidatura UNESCO dei teatri storici, alle manifestazioni sportive internazionali e quelli sull'associazionismo. Inoltre, ieri ha incontrato il ministro all'istruzione Valditara, al quale ha fatto presente le criticità legate al sistema scolastico, come le classi pollaio. Non mancherà il confronto con il territorio per lei fondamentale? Sì, io vengo dal territorio, sono abituata a confrontarmi sempre con i miei elettori e non solo, comunque con tutti coloro che mi sottopongono delle richieste specifiche. Sono molto attenta, sono molto dedita all'ascolto, anche perché questa è una caratteristica che ho preso dal mio lavoro in quanto sono un avvocato. Nell'esecutivo regionale è entrato anche Brandoni, al quale sono state affidate le deleghe al bilancio, alle finanze, al demanio, ai trasporti e alle politiche comunitarie. È stato come fare un tuffo nel passato, ha affermato Brandoni. Ricordo il giorno del mio insediamento come sindaco di Falconara, nel 2008, quando abbiamo preso un comune con circa 90 milioni di euro di debiti. Ci davano una vita limitata a sei mesi per dissesto finanziario, invece abbiamo avuto e ho avuto in particolare delle intuizioni e siamo riusciti a mettere sui binari consueti un bilancio che ci ha voluto tempo, però siamo riusciti negli anni a ricondurlo a un bilancio quasi normale. Ora però si parla di un bilancio di quasi 5 miliardi, questo non la spaventa? Sì, indubbiamente 27 milioni a Falconara e 5 miliardi in regione, chiaramente però qui ho altri supporti, gli uffici sono molto più importanti, ma non importanti, importanti come numero direi più che altro. Come dicevo prima, lo sapete molto bene che il 78% dei 5 miliardi riguarda la sanità e la rimanente parte riguardano tutti gli altri assessorati, tutti gli altri servizi. Brandoni ha poi ricordato i tagli della finanza pubblica avviati dal governo centrale nei confronti degli enti locali e le calamità che hanno colpito la regione, come il terremoto, la pandemia, la crisi energetica e l'alluvione con forti ripercussioni su migliaia di imprese, problematiche che ora dovrà affrontare anche il collega Antonini, a cui sono andate le delega allo sviluppo economico, industria, artigianato, commercio, fiere e mercati, agricoltura, fonti rinnovabili, caccia e pesca sportiva. Assessore, abbiamo 24 deleghe da gestire, quali sono le priorità? Le priorità sono quelle di cercare di dare un supporto importante al tessuto produttivo marchigiano che è in grande difficoltà per i problemi che purtroppo conosciamo tutti, calamità naturali ma anche sanitarie, economiche e quindi penso che la regione dovrà lavorare parecchio per sostenere le aziende, quindi questa è la priorità. Sulla energia credo che possiamo porre un'attenzione particolare, proprio lo sviluppo energetico e credo che sia strategico del mio assessorato. Anche lei ha una lunga carriera politica, che cosa si porta sino ad oggi? Mi porto certamente l'esperienza amministrativa sia nel comune di Ascoli, nella provincia, ma anche in questi due anni nella presidenza della Commissione Ambiente e anche devo dire un po' la capacità importante anche di relazionarmi con i colleghi perché è fondamentale che noi d'ora in avanti dovremo lavorare sempre di più come una squadra in giunta e poi soprattutto l'ascolto del territorio che è fondamentale, quindi sentire, percepire le problematiche e soprattutto portare le soluzioni. I temi sono quelli della interconnessione della nostra regione. La presentazione della nuova giunta è stata anche l'occasione per fare un bilancio sulle azioni di governo e sulle sfide future. Acquaroli ha citato, tra le altre cose, la costituzione sia dell'Agenzia regionale per il turismo e l'internazionalizzazione, sia della Svem, la società di sviluppo della regione, poi il salvataggio dell'Interporto, la riorganizzazione dell'Assam, l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare, oltre agli interventi per gli ospedali di Pesore e Macerata e il lavoro per individuare l'area per il nuovo nosocomio di San Benedetto del Tronto. Inoltre per il governatore sono necessarie altre tre leggi per lo sviluppo dell'intero territorio marchigiano. Tre leggi attese da tantissimo tempo. Dopo la riforma delle aziende sanitarie arriverà il nuovo piano sociosanitario che sarà fatto alla luce degli studi di approfondimento sul fabbisogno e che ci potranno permettere una riorganizzazione, una riprogrammazione che possa essere più equilibrata, che sarà attenta a limitare la mobilità passiva e soprattutto a recuperare risorse per poter distribuire. Chiaramente questo avviene in un quadro dove l'emergenza sanitaria, soprattutto per la carenza dei medici, è un'emergenza elevatissima a livello nazionale. Noi stiamo lavorando con le borse sia per i medici specializzanti ospedalieri sia per i medici di medicina generale, ma la mancata programmazione porta a un deficit che oggi vediamo che è un deficit molto pesante. I risultati che vedremo rispetto a quelle che sono le borse che noi abbiamo messo in campo per i medici di medicina generale potranno essere tangibili entro i prossimi 12-24 mesi, per i medici ospedalieri dovremmo aspettare di più. Certo è, ha aggiunto il Presidente, che la riorganizzazione e la creazione di diversi strumenti e strutture potranno portare ad un nuovo approccio rispetto agli accessi ai servizi sanitari. Le altre leggi fondamentali invece riguardano il piano delle infrastrutture e la legge urbanistica. L'ultima fu varata nel 1990. E quindi a 30 anni di distanza con tutto lo sviluppo che si è visto, si è resa non solo necessario, ma indispensabile per consentire al nostro territorio uno sviluppo che sia in linea con i standard attuali. Invece, tornando a parlare dell'alluvione, diceva che pesava molto anche la burocrazia. Pesa molto la burocrazia, pesa anche un approccio che è quello che a normativa vigente prevede prima la ricognizione del danno dei privati e del pubblico prima di procedere a tutte le altre fasi, sia quella della ricostruzione sia quella del ristoro dei danni. è una burocrazia e delle procedure che sono assolutamente indispensabili e stiamo cercando di sostenere i territori, i sindaci e tutti i soggetti interessati colpiti dall'alluvione, ma contiamo nelle prossime settimane di poter dare una linea guida precisa rispetto a quelli che sono gli obiettivi che spero potranno essere raggiunti nel prima possibile, nel più breve tempo possibile, sia nel ripristino di tutte le infrastrutture, nel miglioramento delle infrastrutture, ma anche nella messa in sicurezza del territorio. E adesso la cronaca con un incidente che si è verificato questa mattina alle 9.45 in Viale Buozzi a Fano, all'altezza della rotatoria, dove un ciclista fanese di 63 anni che attraversava sulle strisce pedonali in sella la bicicletta è stato investito da una utilitaria condotta da una fanese di 71 anni. Il ciclista è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi di legge. Ci spostiamo a Pesaro, dove sono terminati i lavori, al San Decenzio ed è stata inaugurata l'area che conta 104 posti auto. Come spiegato da Ricci e Pozzi, si tratta di un nuovo parcheggio scambiatore gratuito che potenzia il quartiere e la città. Il parcheggio San Decenzio si arricchisce di 104 posti auto, di cui 5 per persone con disabilità e di 9 stalli per motocicli. Il valore dell'intervento, avviato nel mese di febbraio dall'amministrazione e sostenuto, come previsto dalla permuta, dall'azienda FME, che nel frattempo ha traslocato in Via Pertini, è di 700.000 euro. I lavori comprendono la creazione di massicciate, rete fognare, asfalti, illuminazione e segnaletica. Il terzo grande parcheggio gratuito che apriamo e inauguriamo negli ultimi 7 mesi. A marzo abbiamo inaugurato un parcheggio importante accanto a Porta Capucina, accanto alla stazione del treno, un parcheggio utile a tutti i pendolari. A giugno abbiamo aperto un parcheggio di Villa Marina che ha funzionato molto bene, anche per rafforzare quel concetto di mobilità sostenibile, quindi di pedonalizzazione del lungomare. Quindi un parcheggio molto importante. Oggi arriviamo alla conclusione in realtà di un'anteprima di un intervento complessivo che è partito diversi anni fa. Un intervento che è partito addirittura dal 2007 e vede oggi questa inaugurazione di una parte del parcheggio complessivo che vedrà invece la luce finale nei primi mesi del 2023. È un intervento atteso da tempo dal quartiere di Pantano e dagli ambulanti, ha poi dichiarato il sindaco Matteo Ricci, un ulteriore spazio che rafforza la strategia di mobilità che il comune di Pesaro porta avanti da anni e questa nuova area, ha aggiunto il primo cittadino, è una risposta alle esigenze di chi deve recarsi in centro storico. Inoltre garantirà una fruizione più comoda e funzionale sia del cimitero centrale sia del mercato cittadino. Questo è con il San Decenzio, quello del Cavalca Ferrovia, due in verità lì sono i parcheggi, quello che metteremo a posto, che è già utilizzato, ma che metteremo a posto dietro la caserma militare in via dell'Acquedotto e quello che abbiamo realizzato in fondo Viale Trieste. Sono tutti i parcheggi scambiatori gratuiti per la sosta lunga a pochi metri dal mare e dal centro e quindi siamo molto contenti per questo. Dall'altro è stata un'operazione complicata perché qui è stata spostata un'attività con inerti, materiale edile che non era adeguata a stare in questo luogo per la polvere che creava piuttosto che altro, in una trattativa importante con Prioli e con la realizzazione di una nuova attività che oggi è diventata Tecnovood lungo gli interquartieri. Un'attività che ha accettato di essere un punto anche del nostro percorso di street art e quindi diciamo non solo una bella attività che lavora tanto ma anche un'attività bella grazie all'aver accolto appunto un artista che ha dipinto le pareti rendendola anche molto bella come biglietto da visita all'ingresso della nostra città. Nel giorno della marcia su Roma uno striscione indegno è il commento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci in merito al manifesto apparso al campus scolastico. Un atto vergognoso, aggiunto Ricci, davanti ad un luogo frequentato da giovani studiosi. Ho detto di rimuovere immediatamente questa uscenità. Pesaro sarà sempre schierata contro la cultura fascista. Un'azione è condannata anche dal presidente della provincia di Pesaro Urbino, Giuseppe Paolini, che ha subito stigmatizzato l'accaduto. Sporgeremo denuncia. Ha detto abbiamo segnalato il fatto alle forze dell'ordine per svolgere le opportune indagini. La regione assegna contributi alle imprese commerciali del settore non alimentare per l'acquisto di merci. Il bando è riservato alle micro e piccole imprese e a disposizione ci sono 200 mila euro. La delibera, ha spiegato l'assessore al commercio Antonini, risponde a esigenze del settore che sconta ancora l'emergenza sanitaria con le restrizioni nazionali dovute al lockdown e al conseguente calo dei consumi. Il contributo rappresenta un'agevolazione, una tantum a fondo perduto, parametrato al 10% dell'importo delle merci acquistate. Verrà assegnato alle imprese con minore volume di affari rispetto al 2021 sulla base delle risorse disponibili. In caso di parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste e a parità ancora in corso all'impresa che ha sostenuto l'investimento maggiore nell'acquisto delle merci. Il bando sarà visibile sul sito commercio.marche.it. Invece l'assessore regionale Stefano Guzzi ha incontrato gli operatori balneari e del turismo della zona dell'Arzilla per illustrare il progetto di messa in sicurezza dell'argine di sinistra del torrente in prossimità della foce. Ho voluto rassicurare, ha detto Guzzi, che la viabilità di accesso alla zona della statale adriatica rimarrà invariata, addirittura con un miglioramento nella pendenza della strada. Da parte degli operatori, ha continuato Guzzi, c'era la preoccupazione che l'innalzamento degli argini avrebbe potuto limitare l'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso e di servizio e che anche la viabilità pedonabile e ciclabile, prima consentita, avrebbe potuto risentirne in negativo. Cartini alla mano si evince che la pendenza della strada carrabile verso il torrente si ridurrà passando dall'attuale 17,2% al 14,7%. I lavori sono già iniziati per un costo di 180 mila euro, tutti a carico della Regione. Cambiamo argomento. Dopo gli atti vandalici del 31 ottobre 2020 a Sant'Orso di Fano, il Comune ripropone una giornata con laboratori, giochi e musica per allontanare i brutti episodi accaduti tre anni fa. Il servizio di Filippo Pucci. Per il secondo anno consecutivo torna l'appuntamento dedicato ai più piccoli nel quartiere di Sant'Orso a Fano. Si tratta dell'evento intitolato Bella Storia che si svolgerà lunedì 31 ottobre dalle 15.30 fino alle 23.30 al centro della piazza Madre Teresa di Calcutta e nelle zone limitrofe. Tante iniziative per la serata di Halloween organizzate dalle associazioni del quartiere in collaborazione con il Comune di Fano e molte realtà locali. Nutrito il programma con diversi laboratori, giochi, attività ludiche e ricreative e sport dedicati ai bambini ma anche ai più grandi. A metà pomeriggio, attorno alle 17, il Circo Lanziani proporrà la merenda della nonna, quindi ci piace questa collaborazione intergenerazionale. Un laboratorio in particolare organizzato dall'oratorio Sant'Orso, oratorio Acli e sono i giochi di una volta. Verranno ripercorsi tutti quei giochi che in passato hanno fatto divertire i nostri genitori e i nostri nonni. Poi ci sarà una cosa in più rispetto all'anno scorso che è la cena, il momento della cena con i food truck, quindi fermatevi tutti per poi partire con la caccia al tesoro, un mistero a Sant'Orso organizzata dall'azione cattolica parrocchiale in collaborazione con l'oratorio che farà divertire tutti i bambini e tutti i ragazzi. Per partecipare alla caccia al tesoro è necessaria l'iscrizione inviando un messaggio whatsapp a questo numero entro il 29 ottobre. A concludere l'evento sarà la musica del DJ Matteo Petrelli nella piazza del centro commerciale. Ripetiamo la festa di Halloween che vogliamo che diventi per tutta la città e approfitto di questo momento proprio per invitare tutti perché non è di Sant'Orso ma è della città di Fano. Tante collaborazioni, tante attività, tanto divertimento, direi proprio l'occasione per non mancare e dare ad Halloween un tema, uno sfondo diverso dalla paura. Abbiamo voluto personalizzare questa festa che lo scorso anno proprio era nata per cercare di allontanare quello che erano stati episodi antecedenti di disagio giovanile. È stata funzionale perché ha funzionato collaborando con tutto il quartiere, con tante associazioni e non a caso all'interno di questa collaborazione, di questa giornata ci sarà anche l'intervento con una merenda da parte del circolo ricreativo degli anziani del quartiere proprio perché noi amiamo stare in una società dove nessuno si è escluso. Ci tengo a sottolineare che non è la festa di Halloween. È una festa personalizzata, è un dolcetto scherzetto alla fanese, alla fanese perché veramente noi vogliamo radicare una tradizione di socialità inclusiva, di una città che propone delle cose per tutti, dai piccoli ai grandi, che riesce a far stare insieme davvero tutti. E rimaniamo nel quartiere di Sant'Orso perché questa mattina di fronte alla scuola elementare è stata inaugurata la rotatoria che è stata colorata dai piccoli alunni. Abbiamo inaugurato insieme al sindaco e tutta la scuola la rotatoria di Sant'Orso, davanti alla scuola. È il coronamento di un progetto che nasce da lontano, da 4-5 anni fa, con il quartiere e maggiore di bambino. L'hanno ideata, disegnata e anche realizzata in questi giorni con i colori. Si presenta un mandala che hanno progettato e disegnato i bambini 3 o 4 anni fa ed è la sintesi di diverse classi che hanno lavorato su questo con la finalità di raggiungere lo star bene insieme e anche il benessere dei bambini che vivono in questa zona. Grazie alla collaborazione dell'associazione di quartiere che ci ha aiutato a predisporre tutta la realizzazione. Oltre a questa rotatoria che speriamo diventi un segno distintivo anche di qualità del quartiere, i bambini stamattina sono tornati a piedi ad andare a scuola da soli con l'aiuto della polizia locale di tutto il quartiere, degli insegnanti, dei genitori e vorremmo proprio che questa diventasse un'abitudine permanente. Per questo abbiamo bisogno di tutta la collaborazione di chi abita nel quartiere, di tutti gli automobilisti ed è un bel risultato. Abbiamo ripreso dopo la pandemia, abbiamo rifatto tutto il percorso educativo perché i bambini sono tutti nuovi rispetto a tre anni fa. Quindi speriamo però che questo lascia un segnale forte dentro i bambini per adottare sempre modi di mobilità sostenibile. In questo momento i bambini, oltre ad aver fatto il percorso casa-scuola, sono al centro commerciale a consegnare un adesivo a tutti i negozi che si sono desti disponibili ad aiutarli in questa loro esperienza di autonomia. I bambini danno vivacità al quartiere e tutte queste cose insieme sicuramente renderanno più vivibile, più accogliente, più allegro e vivace questo quartiere, compresa la nostra nuova rotatoria. Invece a Palazzo Bracci Pagani Andros Pugolotti ha allestito una mostra con oltre 40 fotografie scattate con uno smartphone di vecchia generazione. Sentiamo l'intervista che è stata realizzata da Cristiana Guerra. Andros, il reportage e astrattismo è il titolo della sua mostra. Come è nata la sua passione e il suo amore per la fotografia? La mia passione per la fotografia e soprattutto di reportage nasce quando avevo 17 anni per la passione di alcuni dei reportaggisti più famosi del mondo come Elliot Erwitt a cui mi ispiro e poi è stata cantonata per 20 anni perché per lavoro mi sono dedicato al video e solo negli ultimi due anni sono ritornato alla passione per la fotografia fatta solo con un telefonino. Qual è il filo conduttore che lega queste foto? Il filo conduttore di questa mostra è il reportage e la ricerca della bellezza nelle cose di tutti i giorni attraverso l'astrattismo. Fotografando, immortalando situazioni quotidiane apparentemente banali da un punto di vista particolare ne può emergere una chiara bellezza e una cosa un po' particolare. Che cosa ha usato per scattare queste foto? Tutte queste foto sono state scattate con un telefonino di vecchia generazione con la mela e utilizzo solo i filtri di default del cellulare stesso. Che città sono rappresentate? Sono rappresentate principalmente le due città in cui ho vissuto di più nella mia vita, Milano e Fano, ma trovo molto suggestiva anche Venezia, quindi ci sono anche degli scatti di Venezia. Fino a quando è possibile visitare questa mostra? La mostra rimane aperta fino al 7 di novembre, dal martedì al venerdì dalle 17 alle 21, sabato e domenica anche la mattina dalle 10 alle 12. Il lunedì siamo chiusi. Progetti futuri, prossimi obiettivi? Nella mia vita mi piacciono molto le sfide, quindi adesso sto facendo tutt'altro lavoro che il fotografo e mi piacerebbe che la mia mostra possa arrivare anche all'estero. E anche questa sera apriamo l'album di Fano TV per fare gli auguri ad Enzo Antonelli che è residente nella zona del porto a Fano e oggi compie ben 101 anni. Auguri da tutti i familiari e ovviamente dallo staff di Fano TV. Prima di salutarvi vi ricordo che nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre ci sarà il passaggio dall'ora legale a quella solare. Dunque bisognerà spostare le lancette dell'orologio un'ora indietro dalle 3 alle 2. Dormiremo un'ora in più ma sarà buio con 60 minuti di anticipo. Ed ora è veramente tutto, vi ricordo che l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con la nostra rassegna stampa condotta da Massimo Foghetti. Buona serata. Grazie. Grazie. Grazie.